Anche noi volevamo dimostrare la nostra solidarietà al popolo turco e in particolar modo ai movimenti di pacifisti che sono stati coinvolti direttamente. Fino a stamattina abbiamo appreso della notizia che due bambini sono rimasti vittime di questa strage. A tal proposito il Movimento 5 Stelle giovedì sarà ad Ancara per incontrare le associazioni, gli ingegneri, i medici, i partiti politici che sono direttamente coinvolti in questa situazione drammatica. Appoggiamo anche la proposta dell'inchiesta internazionale per capire bene e non ridurre la conclusione al fatto che è stato l'Isis a fare questo attentato, ma sarebbe necessario andare un po' più a fondo della questione. Ci dimostriamo tra l'altro disponibili a fare da osservatori alle prossime elezioni del primo novembre per fare in modo che la democrazia possa avere un grande spazio in Turchia e possa superare questa situazione di stabilità.